Wilbur e Orville avevano un sogno, una sfida che tanti avevano affrontato. Volare, volare, prove su prove, tentativi continui. Lo studio, un infaticabile lavoro e poi finalmente eccolo, il successo. Un'invenzione che ha cambiato la vita. A tutti. Thomas voleva illuminare la notte, ma senza usare il fuoco. Dei fili di rame e un gas. Ed eccola, riproduce la luce. Le sue lampadine ancora oggi illuminano il mondo. Guglielmo immaginava una voce che supera le montagne e attraversa i mari. Bello! E ce la fa! Dalla sua casa di campagna invia un suono al di là delle colline. Le sue onde hanno attraversato paesi e oceani e si sono trasformate in suoni ed immagini. La sua invenzione unisce persone e città lontanissime. Auguste e lui cercavano di infondere vita alle immagini. Il corpo umano. Dargli vita. Dargli vita. Una bella sfida. Una ricerca affascinante per tanti. Una folla che continua ad accompagnare ancora oggi le nostre vite. Anche Matilde ha un sogno e ogni giorno lavora per realizzarlo. laureata, dottorata, plurispecializzata, fa mille cose diverse. Organizza conferenze. Discute e testa prototipi. Viaggia, ci sposta in continuazione, studia e si confronta con gli altri. Ma, soprattutto, cerca la sola. Soldi, soldi. Chissà, forse un giorno anche lei realizzerà il suo sogno.